Fare la spesa ridiventa un piacere Le delizie di Leonardo Voglio preparare i funghi e allora vado a leggere la ricetta e mi dicono che non li devo lavare li devo prendere uno a uno e accarezzare con un panno ma come faccio a pulirli? L'importante è che li metta in acqua ma solamente per pochi secondi meglio in acqua corrente e poi utilizzate il limone serve a lasciare i funghi molto più bianchi Grazie